Quindi ti spiego velocemente che cos'è un saldo estralcio e come puoi ridurre del 70-80% il tuo debito. Ovviamente però all'interno di questo video voglio darti dei risultati, cioè voglio farti vedere dei risultati raggiunti. Buona parte dei nostri risultati li puoi anche vedere sul sito internet www.francescocarrino.com C'è una sezione dedicata a alcuni risultati, tu clicchi e ti escono decine e decine di pagina se non centinaia. Ti ricordo sempre che ho messo a disposizione in maniera gratuita un ebook dove c'è scritto tutto, tutto quello che io conosco. Dicevo ti farò vedere però un paio di risultati, ovviamente si tratta di risultati ottimi, vedrai una riduzione del debito a volte anche di più del 70%. Ma non ci sono miracoli, cosa intendo dire che non ci sono miracoli? Bisogna vedere da situazione a situazione le situazioni personali o aziendali prima di capire che tipo di risultato si può raggiungere rispetto a quella posizione debitoria. Il saldo estralcio, la faccio breve, è semplicemente uno sconto che la banca ti concede a fronte, non lo so, di 100.000 euro, ti dice dammi 20.000 euro e la chiudiamo qua. Non è che la banca ti vuole bene e ti fa lo sconto. E' perché ci sono determinate situazioni che fanno riflettere, fanno pensare alla banca che quel credito potrebbe essere perso o che comunque per poter recuperare quei soldi da te ci vogliono degli anni, ci vogliono delle procedure esecutive, bisogna fare la trafile in tribunale. E quindi gli conviene raggiungere direttamente con te un risultato a saldo estralcio. In realtà c'è da aggiungere qualcos'altro rispetto a questi debiti accumulati dalle banche che non vengono incassati dalle banche stesse, ma te lo riporterò dopo che ti faccio vedere i risultati. Dopo che ti faccio vedere i risultati ti darò un paio di informazioni importanti per capire quando si può arrivare effettivamente ad avere uno sconto del 70-80% sul debito residuo. Questo è un finanziamento della Banca Montepaschi di Siena, come puoi vedere. Il finanziamento, vedete nell'oggetto c'è scritto Siena NPL 2018 SRL, vuol dire che questo debito, questo credito dipende dai punti di vista, è gestito da una società che gestisce, scusate il giro di parole, degli NPL, cioè dei crediti in sofferenza. Quindi questa Siena NPL 2018 SRL gestisce per conto della Banca Montepaschi di Siena questa posizione debitoria. Il finanziamento in questo caso, come puoi vedere, sottolineato in rosso, era di 20.000 euro, lo vedi sulla freccia in alto. A quanto abbiamo chiuso questa posizione debitoria? Questa posizione debitoria è stata chiusa con 6.200 euro, di cui 3.000 euro subito al momento dell'accettazione. Questa era la nostra proposta, cioè una volta che ci siamo confrontati con il cliente, il cliente ha detto ok, io sono disponibile a mettere subito sul piatto 3.000 euro e gli altri 3.200 euro li verso in 4 rate da 800 euro. All'interno dell'ebook gratuito, che puoi trovare su soluzionidebiti.com, troverai anche queste possibilità, cioè quando è possibile rateizzare un saldo estralcio, fino a quante rate è possibile fare un saldo estralcio, cioè anche ti fanno un saldo estralcio, uno sconto da 100.000 a 20.000 euro e lo paghi in comode ai 70 rate. No, non funziona così. All'interno dell'ebook comunque c'è scritto tutto. In sostanza in questo saldo estralcio sono stati risparmiati 13.800 euro. Ora la prima considerazione, devi stare molto attento perché nelle prime righe che ti faccio vedere di questo documento c'è scritto legge sulla cartolarizzazione. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che questo credito MPS, Banca Montepaschi di Siena, se ne è liberato a favore di un'altra società che si chiama appunto Siena NPL 2018 SRL, cioè è un SRL a se stante della banca. Quindi questo credito è stato venduto, completamente ceduto, cioè la Montepaschi di Siena in qualità di banca se ne è completamente liberata. Questo credito in questo momento è della Siena NPL 2018 che lo avrà acquistato a una percentuale minima. A volte queste società acquistano dalle banche, quindi faccio l'esempio, non è il caso della Siena NPL, acquistano dalla Montepaschi di Siena con i soldi che la Montepaschi di Siena gli presta, gli fa un prestito per acquistare questi crediti stessi. Insomma è la classica truffa che mettono in atto gli istituti di credito. Truffa legalizzata, è tutto legale. Io la chiamo truffa perché farebbero prima a chiamare il creditore e dire stiamo vendendo questo credito al 20%, al 10% invece di farci affari con un'altra società che in questo caso si chiama Siena NPL 2018 SRL, te lo vendo direttamente a te. Visto che sei in difficoltà, se ti fai aiutare da qualcuno, vabbè, lasciamo stare, non è il caso delle banche. Ora ti faccio vedere il caso di un mutuo. Come vedrai il mutuo aveva un importo originario di 165.000 euro. In questo caso lo gestisce la Penelope SPV. Comunque non te la faccio lunga, quello che voglio farti vedere è che questo mutuo originario di 165.000 euro è stato chiuso con la modica cifra di 20.000 euro. Ripeto, nel sito internet www.francescocarrino.com vai a vedere tutti i miei risultati negli anni, ovviamente non è che ci sono caricati tutti, non è che stiamo lì a caricare ogni giorno tutti i saldi e stralci che andiamo a fare, però una volta due l'anno andiamo ad aggiornare questo file e infatti troverai anche dei saldi e stralci più aggiornati, cioè che abbiamo fatto un mese fa, due mesi fa, eccetera. Ora hai visto due tipi di saldi e stralci che sono nel secondo caso una eclatante. In realtà sui mutui ne stiamo facendo tantissime in questo momento di difficoltà economica in generale del nostro paese, ma molto cambia da banca a banca. Molto cambia dal fatto se la banca ha ceduto, cartolarizzato, completamente venduto il credito ad un'altra società oppure ha affidato il credito a una recupero crediti. Quindi la cosa più importante che devi capire è capire a che livello è il tuo debito, chi lo sta gestendo. Ma per tutto questo ti rimando all'ebook. Un'altra cosa molto importante ovviamente è in che condizioni economiche sei messo, perché se sei messo che guadagni 3.000 euro al mese, è ovvio che la banca, che può venire a conoscenza non del fatto che guadagni 3.000 euro al mese, ma che hai un contratto ad esempio a tempo indeterminato, potrebbe avviare delle azioni per pignorarti il conto corrente. Quindi in quel caso, pignorarti scusami, lo stipendio, il quinto dello stipendio. Quindi in quel caso il saldo estraccio si può raggiungere lo stesso, è una questione di convenienza da parte della banca, perché prima di arrivare su uno stipendio, su un conto corrente, per la banca possono passare anche 3-4 anni, quindi alla banca conviene incassare subito una parte della somma. Magari il saldo estraccio non viene fatto al 20% o al 30%, ma viene fatto al 40% o al 50%. Ma dipende molto dalle condizioni economiche in cui sei. Ecco perché noi analizziamo i casi caso per caso. Io purtroppo ricevo delle mail di molte persone che si lamentano perché si sono state affidate non ad avvocati commercialisti e che di norma non si occupano di queste pratiche, ma a delle società che fanno business a tutti gli effetti, vendendo soluzioni diciamo impossibili ai clienti. Lei non si preoccupi e ci dia tutto, fanno firmare ragazzi delle cambiali ai clienti che sono indebitati. La gente disperata si affida a loro, ovviamente non ci mette la faccia nessuno su questa società, cioè io all'interno di questo canale, sono 3 anni che ho questo canale, ci metto direttamente la mia faccia e all'interno del mio sito internet ci metto i miei risultati. Però insomma queste società promettono miracoli di risolvere qualsiasi situazione senza andare ad analizzare il caso nello specifico. Qual è la tua situazione economica attuale? Hai proprietà immobiliari? Chi sono i garanti? Da quanto tempo che non paghi? Qual è il motivo che ti ha portato a non pagare? È necessario sapere tutte queste cose per capire che tipo di risultato possiamo raggiungere. Noi per fare questo impostiamo una consulenza, ovviamente la consulenza è a pagamento, dico ovviamente perché non abbiamo una squadra di centinaia di persone che possono farti una consulenza specifica su queste tipologie di problemi, quindi capirai che se la consulenza fosse gratuita noi praticamente faremo consulenza dalla sera alla mattina e dovremmo aprire l'onlus finanziati da Papa Francesco. Però con la consulenza andiamo ad inquadrare perfettamente quella che è la soluzione, andiamo a schedare, passatemi sto termine, quella che è la strategia migliore per il tuo caso, per il tuo finanziamento, per il tuo mutuo, per i tuoi debiti societari e poi andiamo a definire una strategia operativa con il cliente. Questo è il nostro modo di operare. Detto ciò, a livello gratuito, perché so che un debitore è in una situazione di difficoltà e anche tirare fuori 100 euro, 200 euro pesa, io quello che posso darti sono i contenuti all'interno di questo canale, quindi all'interno di questo canale sui saldi e straccio non c'è solamente questo video, ma puoi andare nella sezione specifica del mio canale. L'ebook gratuito e a breve cercherò di organizzare delle dirette live completamente gratuite in modo che ognuno di voi mi possa farmi delle domande e io durante una diretta di un'ora, un'ora e mezza, due ore, quello che ci andiamo a prendere rispetto a quell'argomento specifico sulle recupero crediti, sul saldo e stralcio, sul mutuo non pagato, possa rispondere a quante più persone possibili. Quello che volevo farvi passare è che le posizioni debitorie si possono risolvere. Dipende dalle circostanze, non si possono fare miracoli ovunque, ci sono situazioni in cui può andare bene, situazioni in cui bisogna trovare soluzioni di ripiego, però le soluzioni debitorie vanno affrontate e risolte. Che sia con un saldo e stralcio, che sia un solo indebitamento, questo è quello che dovete fare. Quello che io vi metto gratuitamente lo potete tranquillamente trovare sul web. Mi auguro vivamente che possa servirvi a risolvere le vostre posizioni debitorie. Per tutti gli altri aggiornamenti e altri video che andrò a fare su questa tematica, sulle live, l'invito è quello di iscriverti al canale qui su YouTube, seguirmi su Facebook, su LinkedIn e iscriverti se vuoi al mio sito internet www.francescocarino.com così ogni volta che andrò a fare queste live dirette con le vostre domande sarai informato e potrai partecipare oppure ricevere successivamente la registrazione se in quel momento non puoi partecipare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!